Amici di Youtube, dalle condizioni che sono, beh il video poteva anche non esserci però dopo che ho sentito certe robe da Tristoni che si confermano ancora la vergogna, il male dell'Inter tifosotti che non aspettavano altro, perché parliamoci chiaro, non aspettavano altro che un passo falso dell'Inter per tornare alla carica per dare lezioni a Inzaghi, allora innanzitutto non capisco questa cagata che sento in giro sul turnover quindi Inzaghi non doveva fare il turnover secondo voi, sulle tre partite quella meno impensieribile è quella con il Monza ora dove doveva fare turnover, dove doveva ricaricare le energie dei ragazzi secondo voi Simone Inzaghi con il City? Beh ovviamente no, al Derby? Che è la nostra vita? Beh ovviamente no è normale che con il Monza che è sulla carta la squadra più abbordabile per le riserve doveva fare turnover la mentalità nel dire ancora andiamo a Manchester con le riserve e prendiamoci un 5-6-0 con il Monza mettendo in campo Cialanoglu e Barella è ancora la riprova, la riprova, la riprova che voi di questi anni di Inzaghi non avete capito veramente un cazzo perché il discorso è semplice avete sentito le parole di Marotta al sorteggio della Champions? l'obiettivo è arrivare tra le prime 8 del girone unico di Champions quindi è inutile che adesso addirittura si sentono tristoni dire no ma Inzaghi nella gestione non è un grande, no 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 no, nella gestione deve rivedere tante cose perché non si può, Marotta deve stare col fiato sul collo, deve stare lì addosso perché no, non si possono vedere certe cose, no no quindi Marotta deve stare addosso a Inzaghi per non fare turnover con il Monza quando è il primo Marotta che ha detto che l'obiettivo è arrivare tra le prime 8 in Champions quindi di che cosa cazzo stiamo parlando ora l'infortunio di Di Marco, l'affaticamento di Di Marco ovviamente ha fatto una partita della Madonna l'unico che si salva insieme a Carlos Augusto e Dunfris quando è entrato insomma contro il Monza è normale che dopo aver fatto due partite 90 minuti in nazionale una no, l'ultima con l'Israele no comunque dopo aver fatto due partite insomma da titolare in nazionale dopo i 90 minuti con l'Atalanta è normale che comunque qualcosa qualche problemino muscolare si poteva diciamo già intravedere, no però la cosa che mi fa schifo è vedere adesso gente che arriva a dire eh no però Di Marco si è rotto perché non doveva giocare con il Monza ma non doveva giocare ma no ma non è possibile ha fatto due partite titolari con la nazionale ha fatto 90 minuti con l'Atalanta perché lo metti 90 minuti con il Monza quindi nella vostra testa di Capocchia Inzaghi non doveva fare turnover però non doveva fare giocare Di Marco e allora il turnover lo doveva fare perché se Inzaghi non doveva mettere Aslani e Frattesi dal primo minuto allora non doveva nemmeno mettere Di Marco che discorso è cioè Inzaghi non va bene che fa turnover con il Monza però Di Marco non doveva giocare e allora c'è qualcosa che non va nella vostra testa io invito tutti i tristoni a fare pace con il cervello perché veramente qua ci siamo veramente stancati fate pace con il cervello non sapete nemmeno voi cosa dovete dire cosa state facendo cosa state dicendo che considerazioni fate cioè basta un pareggio e arriva una confusione da tristone che fa schifo cioè quindi Inzaghi è la merda perché non doveva fare turnover però invece arriva la voce che Di Marco era meglio non farlo giocare allora doveva fare turnover secondo il vostro ragionamento quindi deve fare o non lo deve fare turnover solo quello che fa comodo a voi deve fare turnover cioè quindi se avesse messo i titolari con il Monza e magari Cialanoglu prendeva un affaticamento magari Barellino che ne so dopo l'operazione si prendeva una ricaduta non lo so comunque un piccolo acciacco me l'immagino è Inzaghi però non va bene con il Monza devi far giocare le riserve se no Aslani quando lo metti se no Frattesi quando lo metti fa turnover eh no però Aslani non può giocare nell'Inter no però Frattesi non va bene non va bene non va bene non va bene Di Marco si rompe? eh no ma Di Marco non doveva giocare ma siamo su un'arnia o dove? la vogliamo smettere o no? cioè un allenatore che dopo la stagione monumentale dell'anno scorso uno scudetto lo scudetto della seconda stella storico del 22 aprile alle 22.43 in faccia ai ratti dopo la finale di Champions giocata alla pari persa per episodi vice campioni d'Europa dell'anno scorso due Coppe Italia e tre Supercoppe Italiane c'è qualcuno che ha ancora il coraggio di chiamarlo Coppone Inzaghi Limone Inzaghi Scemone Inzaghi o addirittura no ma nella gestione Inzaghi no 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 nella gestione del turnover no 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 cosa no 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 Aslani quando deve giocare titolare Frattesi quando deve giocare titolare se non con il Monza in una partita che viene poi di domenica sera in attesa della partita con il City di mercoledì la vergogna è quella poi anche perché cioè adesso parliamoci chiaro cioè il Bologna che ha la Champions quando gioca sabato alle 3 con il Como la Juve che ha la Champions quando gioca sabato alle 18 con l'Empoli il Milan che ha la Champions quando gioca sabato sera con il Venezia l'Inter che ha la Champions quando gioca domenica sera anche lì ci sarebbe da aprire un capitolo ma lasciamo perdere comunque anche lì come sempre no poi è la Marotta League sì sì infatti siamo gli unici che giochiamo di domenica che abbiamo la Champions il mercoledì bella Marotta League comunque le ultime e poi un'altra cosa su Aslani un'altra cosa su Aslani Aslani eh non è da Inter basta il rinnovo è una vergogna ieri ha rinnovato fino al 2028 Aslani non può giocare nell'Inter non è possibile di qua di là non è possibile ora io non è che adesso voglio prendere solo le difese di Aslani perché cioè io non è che ora sono qua a fare l'avvocato difensore di Aslani secondo me poi non ha neanche fatto così male secondo me poi con il Monza cioè nel senso che poi da mediano lo sai che ha quelle caratteristiche lì lo sai che tocca tantissime volte il pallone si perde tanti tempi di gioco per impostare ma lo sapevi già non è che l'hai scoperto domenica sera ma secondo me ripeto ancora magari sarà più facile giocare con Barella e Mkhitaryan piuttosto che con Frattesi che non si inserisce non ha i movimenti da mezzala non sa palleggiare e beh viene anche difficile poi valutare la prestazione di un mediano quando hai altre caratteristiche proprio a centro campo cioè tu non è che hai Barella e come vice Barella hai un Barella più scarso no hai un Frattesi che è un giocatore completamente diverso quindi voglio dire non è ci sarebbero da aprire tanti capitoli ma poi voglio dire qualcuno mi fa un nome di un giocatore nel ruolo di Aslani da mediano da regista che a 22 anni spaccavano le partite prendevano il gioco con la mano e facevano vincere le partite le proprie squadre da fattori determinanti io non me ne ricordo Modric a Real Madrid quando ha iniziato a fare il regista e a diventare uno dei giocatori più forti in quel ruolo a 28 29 anni Rodri quando ha iniziato 27 28 anni cioè la Noglu quando ha iniziato l'anno scorso 28 anni cioè che discorsi sono poi mi fanno i discorsi e ma Zubimendi innanzitutto Zubimendi fa il mediano alla Sociedad a 27 anni innanzitutto seconda cosa lo fa alla Sociedad non nell'Inter Ricci fa il mediano al Torino da 2-3 anni sì lo fa al Torino hai detto bene non all'Inter Bernabè fa il mediano che è clamoroso poi Bernabè è fortissimo sicuramente ma dove gioca il Bernabè da mediano da regista titolare al Parma hai detto bene non all'Inter quindi io non ho mai visto un giocatore in una big a 22 anni fare la differenza da regista ho visto tanti fabbri tanti medianacci che recuperano palloni a 22 anni ma è un ruolo molto diverso rispetto al mediano al regista puro Brozovic ha iniziato a fare il regista a 27 anni non a 22 come Aslani cioè qua qualcuno forse si sta veramente fasciando la testa per cose che non esistono cioè io vorrei ricordare che Aslani ha due anni meno di Bissek un anno in più di Palacios e otto anni in meno di Cialanoglu cioè come si fa a pensare che Aslani che gioca tre partite da titolare all'anno debba fare la differenza Aslani è quel giocatore lì deve ancora imparare è un alunno di Cialanoglu ma comunque ha fatto recuperi importanti secondo me domenica ha giocato in un centrocampo totalmente rimaneggiato perché Mkhitaryan ha fatto bene a differenza di quelli che dicono che non so che partita abbiamo visto per me Mkhitaryan è stato uno dei migliori in campo del centrocampo secondo me contro il Monza ma avevi dall'altra parte a destra un frattesi che non ti dà quell'imprevedibilità che ti può dare Barella quindi voglio dire sentenze sputate non è da Inter non farebbe il titolare manco la Salernitana ci siamo stancati non è un ricambio all'altezza dell'Inter rinnovato per cosa qua veramente stiamo delirando secondo me stiamo delirando Aslani non è che l'hai visto per la prima volta ieri domenica sai che giocatore è cioè ma dico io ma sta gente qua guarda le partite o guarda diretta hit o guarda le highlights perché va bene che ormai il calcio di oggi è il calcio delle highlights e siamo d'accordo ma fare questi commenti secondo me sono veramente ridicoli comunque arriviamo alle ultime news stamattina i ragazzi si sono allenati sessione mattutina da piano con la nuova tuta per la Champions complimenti a Nike perché quest'anno dal punto di vista del merchandising dai kit home away e teared dai kit della pre gara della pre match dalla Champions dal training quest'anno Nike si è superata ha fatto di quelle tute spaventose cioè quest'anno ci vogliono far spendere i soldi parliamoci chiaro no tuta bellissima i ragazzi si sono allenati oggi si è vista grande alchimia cioè si è vista comunque grande felicità si è visto un bel gruppo come sempre si è visto un Lautaro che adesso ci arriveremo anche su Lautaro comunque si è visto un Lautaro molto molto sorridente ha scherzato già con Palacios un frattesi e un barellino scatenati con il sorriso stampato in faccia si è visto un bel clima nel Torello che hanno disputato i ragazzi oggi un Inzaghi concentrato e quindi lascia veramente ben sperare Di Marco non partirà per Manchester vedremo di che entità sarà l'affaticamento cioè sicuramente non partirà domani o stasera per la partita di domani da valutare con il Milan da valutare per il derby vedremo se sarà un affaticamento simile a quello di Cialanoglu e Bastoni dopo l'Atalanta che comunque hanno avuto qualche giorno per riprendersi e poi erano già in campo o se sarà invece un affaticamento come quello di Taremi e Arnautovic e Devrai prima dell'inizio del campionato perché se è quell'affaticamento lì allora forse potrebbe essere anche un problema per il derby perché potrebbe non esserci dalle condizioni del giocatore che si sono valutate oggi si pensa che Dimash possa giocare al derby noi chiaramente ce lo auguriamo e quindi speriamo che vada tutto per il meglio il il dilemma che non esiste anche perché poi sempre per il fatto turnover si turnover ma quando non gioca Ciala comunque Di Marco lo devi mettere in campo cioè nel senso l'anno scorso solo con la Fiorentina dove abbiamo sofferto tanto non hanno giocato né Di Marco né Cialanoglu in una partita hanno giocato Carlos tutta fascia e Aslani regista poi la partita l'hai vinta hai meritato hai sofferto con Nico Gonzalez che sbaglia il rigore ok l'anno scorso a Firenze ma quella è stata l'unica occasione dove sia Cialanoglu che Di Marco non hanno giocato ma quando non gioca Cialanoglu deve giocare Di Marco se non gioca Di Marco deve giocare Cialanoglu perché sono le due fonti di gioco dell'Inter uno dalla sinistra l'altro in mezzo al campo che cosa fanno? aumentano i ritmi del motore a centrocampo Mighitare e Nebarella sono gli unici due giocatori chiaramente con Cialanoglu ovviamente capaci di velocizzare le azioni con un tocco cosa che non ti possono dare fra Tesi e Aslani ci siamo capiti o no? poi ripeto ancora sono convinto che secondo me con il Monza non avresti vinto neanche con Cialanoglu e Barella perché secondo me o meglio boh secondo me no perché è mancata proprio l'atteggiamento è mancata la cattiveria è mancata la feroce negli ultimi metri secondo me poi con squadre arroccate così fai sempre fatica a vincere anche se giochi con i titolari cioè quello è però poi vabbè non si possono fare commenti non si possono fare commenti col senno di poi perché dopo siamo tutti capaci a fare gli allenatori però io sono convinto che secondo me anche con i titolari faci di fatica a vincerla lo stesso una partita del genere detto ciò quindi oltre a Di Marco non partirà nemmeno Arnautovic per Manchester perché ha riscontrato una febbre molto alta quindi non si è allenato nemmeno lui come Di Marco come anche Biukanan nella sessione di questa mattina e qui rimane appunto il rebus attaccanti rimane che tu hai due attaccanti titolari una riserva di lusso come tarini e poi hai il nulla vabbè Arnautovic non è il nulla sicuramente Arnautovic continua a dire che secondo me è una riserva importante da quinta punta o da quarta punta ma il problema sai benissimo chi è ed è il grigliatore pazzo e ripeto ancora secondo me l'unica diciamo io questo lo continuo a dire non è che adesso sto rimuginando il mercato perché si è pareggiato a Monza anche perché siamo solo la quarta giornata non c'è da fare assolutamente un dramma però continuo a dire che secondo me l'unica pecca del mercato è proprio stata quella di non prendere una punta veloce capace di saltare l'uomo di creare superiorità numerica di scombussolare le carte nel secondo tempo avrebbe fatto molto comodo una punta del genere a Monza Correa non è entrato male l'attacco non è entrato male però secondo me l'unica pecca del mercato a prescindere invece dalle cagate che dicevano sulla difesa che ci servivano difensori ci servivano esterno quelle sono robe da robe da tutt'altro mondo il vero problema secondo me era una punta veloce che saltasse l'uomo che si arriva a tutti i costi quella è l'unica cosa che ecco recrimino sul mercato ma c'è anche da dire che quando è un Correa che comunque ti pesa quei milioni lì ovvero 15 milioni a bilancio beh con un ingaggio da 3 milioni e 7 a 6 mesi dalla scadenza di contratto non te lo prende nessuno e il giocatore non si muove quindi non è nemmeno colpa della dirigenza ecco l'unica colpa è proprio quella della valutazione nel lungo periodo perché nessuno si aspettava un Correa che non avesse queste offerte allora quindi altra cosa sempre in difesa innanzitutto rispetto per il nostro capitano sto sentendo già problema Lautaro non segna nelle ultime 13 partite allora nelle ultime 13 partite senza gol secondo me poi è anche una statistica che ha poco senso perché cioè Lautaro l'anno scorso quando non ha segnato quando eravamo praticamente a 3 punti dalla vittoria dello scudetto matematico quindi quando tu eri a 3 punti da vincere lo scudetto in faccia a quelle merde al derby Lautaro qualche partita prima non aveva segnato ma i gol che ha fatto prima i 24 gol che ha fatto prima quelli invece non passano in sordina ma che discorso è quindi già non ha senso perché in una squadra che ha già vinto lo scudetto anche se non arrivano i gol del capitano non è proprio un problema su cui fasciarsi la testa prima cosa è normale che poi quando arriva già arrivi già lì con i punti poi ti senti già campione quindi poi la prestazione le occasioni sotto porta passano in secondo piano in queste prime quattro giornate Lautaro non ha segnato ho capito ma è un fattore fisico è un fattore di condizione nazionale sosta pochi giorni fa è quello che è andato più lontano di tutti è tornato più tardi di tutti insieme a Taremi uno con l'Iran l'altro con l'Argentina fuori Europa non doveva giocare con il Genoa ha giocato perché era l'unico attaccante che poteva fare qualche minuto perché Taremi non era in condizione Arnautovic non c'era neanche tra poco quindi dovevi per forza mettere Lautaro ritornando ancora sul problema attacco non problema attacco perché l'Inter non è che ha un problema attacco cioè capitemi è un problema nelle alternative perché se tu avevi faccio un esempio l'Auriente faccio un esempio a caso tu l'Auriente lo mettevi con il Genoa prima di campionato facevi un attacco all'Auriente tu l'Auriente se non era l'Auriente poteva essere Chiesa poteva essere Gudmussen poteva essere un altro attaccante capace di saltare l'uomo e non avresti rischiato Lautaro 86 minuti ma non l'hai rischiato perché Inzaghi non è capace di gestirlo l'hai rischiato perché non avevi altre alternative perché Correa non è un giocatore di calcio punto quindi Inzaghi non ha colpe altra cosa Lautaro ha quel mese dove non segna sì però poi durante l'anno ti fa 24 25 26 30 allora sarà magari perdonato chiedo poi anche lì attacchi e prende 10 milioni all'anno capito prende 10 milioni all'anno Mbappé quanti ne prende a Real Madrid ha fatto le prime 5 partite che sono vergognose non ha fatto forse il primo gol anzi neanche non lo so non ha fatto neanche un gol cioè ne ha fatto uno forse forse mi sbaglio ma voglio dire che cazzo di 10 milioni all'anno 10 milioni all'anno se un giocatore non c'è di condizione può anche prenderne 55 di milioni all'anno ma se non è in condizione non è in condizione e con il Monza il Lautaro al 100% il tapin di testa il colpo di testa davanti a Turati con quella bellissima parla di Di Marco 99 su 100 la mette in porta la mette in rete quindi il problema all'autaro dov'è? non esiste non c'è un problema all'autaro quindi rispetto per il capitano e rispetto per l'Inter perché devo sentire Calvarese che dice che c'è stato l'errore a Monza lì su quel fallo su Dani Mota dove c'era Pessina che andava davanti a Sommer era tu per tu col portiere a parte che poi non è che adesso possiamo dire che sicuramente Pessina sarebbe andato a segnare cioè non lo puoi sapere stiamo parlando sempre di tutti di Robby ma tu come fai a sapere che se la palla continua e il gioco continua Pessina va a segnare prima cosa quindi già lì c'è un ragionamento sbagliato di suo seconda cosa che hai retto fischia quando Pavard prende le gambe di Dani Mota e la palla è morta infatti se vedete bene l'azione di Marco si ferma se avete da zona andate a vedere l'azione del gol cioè del gol andate a vedere l'azione del fallo di Pavard su Dani Mota al 93 e vedete benissimo che quando fischia Pairetto la palla non ce l'ha nessuno non è arrivata nemmeno sui piedi di Bondo che poi la dà Pessina e poi Di Marco si ferma già Dani Mota era già per terra quindi che discorso è che discorso è quindi Calvarese che mi viene a dire grave errore fischia un fallo ai padroni di casa che non concedendo un vantaggio cioè parla Calvarese quello che l'anno dello scudetto di Conte fischia quel rigore vergognoso per i gobbi Juve Inter vinta 3 a 2 dai gobbi con furti su furti partita proprio che all'epoca del VAR è stata la più rubata che sia mai esistita e non parlo di quella del 3 a 2 di Pjanic del 3 a 2 di Quadrado Perisic dove viene dato un rigore alla Juve scandaloso di Quadrado che dà un pestone sulla caviglia sul polpaccio a Perisic e viene fischiato il fallo a Perisic e il rigore per i gobbi e i gobbi con quella partita lì vanno in Champions e poi grazie a quella partita arrivano al Mondiale per Club perché alla fine ogni anno di Champions fa quota e la Juve grazie a quel rigore regalato quel furto clamoroso la Juve va al Mondiale per Club quindi io devo sentirmi veramente delle lezioni da Calvarese da Calvarese che fischia un rigore del genere uno degli errori più plateali da quando esiste il VAR se non il più plateale chiaramente sempre a favore delle maglie bianconere quindi voglio dire Calvarese è meglio che pose al fiasco anche perché è a libro paga del giornale del giornale del giornalino porno dei gobbi che ha meno 7% di lettori chiamato Rutto Spork allora quindi parliamo adesso invece della penso che abbiamo parlato di tutto arriviamo quindi adesso alla preview della partita di domani con il City allora innanzitutto innanzitutto ha parlato Guardiola ha detto in Italia siete tutti maestri nel raccontare di come sfavoriti alla vigilia di una partita Turam e Lautaro formano una grande coppia e l'Inter può vincere la Champions addirittura poi qua sono le classiche dichiarazioni che fa sempre Guardiola dove tiene sempre a lusingare l'avversario è un po' una pretattica quella che fa lui perché poi la partita non si gioca di certo sui complimenti ma si gioca in campo con le botte con la fame con il sangue agli occhi e con la grinta quindi forza Inter domani faremo il forza Nerazzurri quindi mi raccomando ragazzi ogni mattina tutti attivi per l'edizione pre partita forza Nerazzurri ma comunque ripeto ancora che sicuramente nella partita più difficile del calendario della Champions che sarà appunto quella di domani deve prevalere a tutti i costi il dente avvelenato bisogna che i ragazzi si stampino nel cervello le immagini di Istanbul le immagini dell'occasione di Lautaro davanti alla porta che al posto che Darla dentro la sbatte addosso a Ederson dell'occasione di Di Marco dei colpi di testa dell'ex 90 bisogna che i ragazzi si improntino proprio nella testa quelle immagini quei frame della partita il gol di Rodri bisogna che i ragazzi entrino in campo con il dente avvelenato perché ripeto ancora dove non arriva la tech dove non arriva la qualità arrivano le palle arriva l'orgoglio arriva la forza di volontà di una squadra beh abbiamo visto negli anni di Inzaghi sappiamo che un Inter che con Inzaghi e con Cialanoglu in regia con tutti i titolari se la può giocare con chiunque se la gioca alla pari con chiunque nella partita secca l'Inter se la gioca alla pari con chiunque e l'hai visto poi nella finale di Istanbul partiamo dal presupposto che andare all'Etihad è un campo come gli altri cioè non c'è il fattore casa secondo me non esiste un fattore casa perché l'Etihad è uno stadio molto freddo diversamente se invece andavi ad Anfield o andavi negli altri stadi o o magari andavi a giocarti la partita in casa dell'Arsenal lì sarebbe stato sicuramente più un catino più un fattore casa importante determinante invece sono contento che hai la partita con l'Arsenal a San Siro e la partita con il City all'Etihad questo è un fattore importante che ci può ritenere soddisfatti anche del sorteggio e poi Guardiola ha parlato anche di mercoledì giochiamo contro la scuola migliore d'Italia siamo pronti ad affrontarli a viso aperto mercoledì giochiamo contro la squadra più forte migliore d'Italia Pep contro Simone atto secondo beh ecco continuo a dire che comunque questa differenza grande c'è soltanto nei milioni spesi dal City e nei milioni spesi dall'Inter la differenza è soltanto sul mercato siamo d'accordo che paragonare Inter e City si può fare sul campo si può fare per la rosa ma non si può fare per i mercati non si può fare per i calciomercati che sostiene una squadra come il City che poi va bene ha fatto anche 115 infrazioni sul fair play finanziario verrà processata ci sarà poi anche quel faldone legato alle fair play finanziarie che non ha rispettato la squadra di Guardiola ma poi non si possono valutare due squadre di cui una va avanti a parametri zero e vince Scudetti fa finali di Champions e continua a vincere trofei su trofei su trofei l'altra squadra che continua a vincere chiaramente in Premier vince una Champions con 150 barra 200 milioni di mercato spesi ogni sessione estiva quindi capite benissimo che la differenza è proprio quella ma come come gioco non siamo inferiore a nessuno non siamo sotto a nessuno ce la giochiamo con i titolari come è giusto che sia come è giusto che sia e quindi smettiamola con questa mentalità perdente di certi tristoni che sono ripeto ancora la rovina la vergogna dell'Inter perché secondo loro era meglio vincere 6 a 0 con le riserve cioè con i titolari contro il Monza e andare invece con il Primavera a Manchester a giocarsi la partita con il City è una vergogna noi siamo l'Inter noi siamo l'FC internazionale Milano 1908 noi andiamo a giocarcela contro tutti e nella partita secca hai visto che l'Inter non è inferiore a nessuno l'hai visto l'anno scorso in Champions l'hai visto due anni fa in Champions l'hai visto tre anni fa in Champions con quella super lezione di calcio a Real Madrid di Ancelotti che poi perdiamo la partita per una cagata di Vecino che si perde l'uomo marca ha fatto i complimenti all'Inter di Inzaghi dicendo a Milano c'è un grande allenatore la BBC studia il gioco di Inzaghi in Inzaghi il gioco di Inzaghi ha idolatrato e visto con grande ammirazione in tutta Europa e quindi qualcuno doveva veramente venire a rompere le palle a dire andiamo con le riserve a Manchester tanto non vinci neanche con i titolari ma chi te l'ha detto chi te l'ha detto che l'Inter non può vincere nemmeno con i titolari sono d'accordo non è una partita alla pari parte favorito il City siamo d'accordo quello è normale ma come gioco noi non siamo inferiore a nessuno noi non partiamo svantaggiati sulla carta sul campo noi partiamo svantaggiati perché il City è una realtà che vince ogni anno la Premier League una realtà che ha dato continuità una realtà che è piena di campioni ma noi nell'unica partita del calendario di Champions dove siamo svantaggiati dobbiamo far prevalere il dente avvelenato la resilienza il riscatto la vendetta e quindi sempre forza magica Inter detto questo la formazione comunque penso che si sappia cioè voglio dire dopo il turno per di Monza ecco penso che gli undici titolari siano quelli c'è l'incognita di Marco quindi giocherà Carlos Augusto da Braccetto da sì da Braccetto ciao da quinto di sinistra e quindi vedremo poi nelle convocazioni magari qualche qualche lista lista verde magari entrerà nelle convocazioni Berenbruck o qualche altro attaccante per il forfè di Arnautovic ma comunque poi vabbè stasera si giocheranno le prime partite delle italiane in Champions gli sozzoneri contro il Liverpool Fonseca fa lo splendido fa anche se vincono con il Liverpool al derby porta i dolci lì portoghesi Morata dice che porta il prosciutto secondo me più che prosciutto mi sa che vi conviene portare le pere così siete già belli apparecchiati però va bene tutto e poi la Juve col PSV alle 18.45 ieri ho fatto l'articolo per Barzacom mi è toccato quello della Juve purtroppo vabbè cosa devi fare è così e il PSV in Dover comunque è una squadra che attenzione ma non è assolutamente una squadra materassa è una bella gatta da pelare perché viene dalle prime cinque partite a punteggio pieno prima in classifica nelle redivisie a 15 punti e quindi sarà sicuramente non una poi Tiago Motta rincontrerà Scouten ex centrocampista che aveva avuto a Bologna sarà una partita veramente secondo me sarà una bella partita quella contro il PSV in Dover poi vabbè domani faremo sicuramente il nostro commento sulle partite della Champions e poi faremo il Forza Nerazzurri per la nostra beniamata poi volevo dare giusto un piccolo commento sul campionato visto che poi alla fine abbiamo veramente tra la partita di Monza tra le post partita tra il giorno dopo tra il pareggio quindi tanti tante analisi vabbè dei Gobbi e del Milan avevamo già parlato ma nella giornata di domenica di campionato non abbiamo non abbiamo parlato innanzitutto vabbè poi ieri ha giocato la Lazio ha vinto contro ha vinto la Lazio ieri sera contro il Verona che insomma vabbè la Lazio quest'anno molto discontinua penso sicuramente poi a me devo dire la verità come va bene Baroni ok ma come Rosa secondo me la Lazio a parte di A uno Tavares che possono essere due acquisti indovinati secondo me si fa sentire l'assenza di un attaccante puro di un attaccante d'area di rigore secondo me Castellanos non lo è però vabbè e poi l'Udinese primo in classifica ha vinto il rimonta a Parma con Luca che mette il post salutato la capolista abbastanza cringe speriamo sia chiaramente una cosa goliardica perché sennò sarà veramente sennò sarebbe veramente preoccupante dire salutato la capolista dopo quattro partite di campionato quindi ripeto ancora basta drammi non facciamo drammi è vero due pareggi due vittorie quattro giornate di campionato però siamo soltanto al 17 di settembre mettiamoci un attimo il cuore in pace sarà una stagione lunghissima tra il mondiale per club la nuova Champions il campionato la Supercoppa la Coppa Italia quindi se ci facciamo la testa adesso non oso immaginare come arriveremo tra qualche mese allora quindi stiamo calmi l'Inter c'è perché con il Monza va bene le riserve però comunque lo scheletro di gioco si è visto non è stata un Inter da due come tutti la vogliono etichettaria ma secondo me è da 5 e mezzo comunque stiamo calmi per quanto riguarda quindi le partite di domenica ho visto la Roma che ha fatto un grande primo tempo con il Genoa meritava di fare forse più di un gol e poi nel secondo tempo cazzata enorme di un non allenatore come Daniele De Rossi perché De Rossi non è un allenatore l'ha dimostrato ancora non è il suo mestiere la cosa da fare secondo me a Roma era quella di prendere De Rossi l'anno scorso va bene hai messo entusiasmo nei tifosi quello che vuoi e a fine anno cambiare totalmente allenatore cambiare progetto tecnico perché avevi già capito che non potevi andare più di tanto in là da quello che aveva fatto l'anno scorso l'hai preso per andare in Champions non ci sei arrivato lo stesso quindi voglio dire io De Rossi cosa ti ha dato in più di Mourinho ti ha fatto vincere un derby capirai Mourinho trattato come l'ultimo degli scappati di casa era l'unico parafulmine della Roma Mourinho era l'unico che difendeva veramente la Roma ma chi preferisce De Rossi è proprio l'emblema e rispecchia proprio al 100% il tifoso mediocre il tifoso ignorante calcisticamente ovvero quello romanista perché se tu prendi Mourinho lo sai che non ti dà il gioco Mourinho ti dà la mentalità e la mentalità la Roma l'ha appresa con Mourinho perché ha vinto un trofeo europeo l'unico trofeo europeo della loro storia che è vero è la conference ma è nella vostra dimensione la conference cosa cazzo dovete vincere la Champions voglio dire la Roma è quella squadra lì la Roma massimo può arrivare settima dove può arrivare la Roma l'anno due anni fa è arrivato in finale di Europa League subendo un furto clamoroso subendo un furto clamoroso che c'era un rigore nettissimo lì quella è veramente rubata quella finale lì di Mourinho quindi con Thaylor che ha fatto quella cagata lì sul rigore la mano netta di Fernando in area non fischiata cioè di cosa stiamo parlando Mourinho in due anni ha fatto il devasto vinto la conference ed è arrivato a tanto così per colpa di un furto clamoroso pro Siviglia a vincere l'Europa League non ha avuto un mercato come quello di De Rossi da 150 milioni Dobvik Mourinho non ce l'aveva aveva un un ex 90 ciccione che non si muoveva aveva un Dybala che era rotto due giorni sì e uno no Matic Wijnaldum con il crociato Selic Smalling con il crociato ma che squadra aveva Mourinho ma ce la ricordiamo o no e Sharawi De Rossi Mourinho non aveva Hermoso Hummels Sule Lefe Cioè De Rossi voleva prendere Sule e mandare via Dybala già qua vi deve far capire la mediocrità delle scelte cioè mandare via uno che è l'unico giocatore forte l'unico campione che ha la Roma come Dybala per prendere Sule cioè gli fa capire proprio la mediocrità quindi per me il pareggio la Roma sta facendo male per colpa di De Rossi la Rosa è buona la Rosa della Roma è molto buona secondo me De Rossi non ci sta capendo veramente niente non è il suo mestiere secondo me hanno attaccato Mourinho immotivatamente e la Roma ha pareggiato Amarassi perché nel secondo tempo ti sei abbassato palesemente e il Genoa nel secondo tempo ha avuto tante occasioni per pareggiare quindi secondo me il pareggio alla fine è giusto nei 90 minuti perché nel secondo tempo poi ha messo dentro Pellegrini si è vista proprio un downgrade anche a livello fisico clamoroso dove Pellegrini ha fatto quella sceneggiata lì dove si è messo per terra è uscito dal campo ha fatto perdere minuti importanti poi si è fatto pure poi no ma poi il problema era Mourinho che si faceva espellere poi il problema era Mourinho che si faceva espellere questo fa la stessa cosa perché si è fatto espellere ugualmente con il Genoa all'ultimo minuto quindi voglio dire dai Mourinho trattato come l'ultimo degli scappati di casa ma io sono convinto che si prenderà una rivincita io sono convinto che tra qualche io sono convinto che in Europa League visto che c'è anche il Fenerbace di Giosea io spero che si prenda una bella rivincita ma comunque quindi Roma De Rossi poi è il nuovo Gattuso cioè De Rossi è quello a me gli allenatori gli allenatori quelli che vanno vanno per le emozioni che vanno a oh c'è voglio unigoglione o di qua quelli i Rozzi mi stanno sul cazzo Gattuso è un altro ignorante per me calcisticamente non capisce un cazzo De Rossi Gattuso sono due allenatori uguali secondo me sono quegli allenatori che vogliono metterla sul piano emotivo sul piano emozionale vogliono fare i salvatori della patria ma ci vogliono le capacità nel calcio ci vuole la competenza ci vuole la tattica non ci vuole soltanto gli gogli le palle rega dai i vozzaroma no quello non vuol dire fare l'allenatore come Gattuso lo faceva il Milan come De Rossi lo fa la Roma due allenatori incapaci secondo me comunque vabbè quindi la Roma pareggia per il Coppa di De Rossi il Napoli prima l'Atalanta con l'Atalanta ha giocato bene deve registrare secondo me la difesa perché prende troppe imbarcate dietro infatti i due gol della Fiorentina sono stati quasi ridicoli la Fiorentina avete una squadra veramente una cozzaglia di giocatori Bove Ken Colpani Gosens ma non vedo però ancora un'amalgama vabbè sulle prime partite vedremo Paladino cosa farà anche lì il problema era italiano domanda il problema era italiano punto di domanda e anche lì ti fa capire perché l'italiano al Bologna c'è una squadra di merda adesso non aveva in 4 anni di Fiorentina 3 anni non ha mai avuto una punta vera a parte Vlaovic infatti prima di Vlaovic dopo di Vlaovic è iniziato il tracollo vero ma prima quando la Fiorentina aveva ancora Vlaovic in squadra comunque voglio dire quella stagione lì poteva giocarsi la Champions quindi dico io anche lì italiano cacciato come se fosse comunque vabbè la Fiorentina per me poca roba l'Atalanta ha giocato bene Lukman l'era di Dio ha fatto una partita veramente in grazia divina con quel gol Clamoreau ha fatto un bellissimo assist per Retei i Retei di quest'anno secondo me farà veramente una grande stagione Brescianini è entrato bene ho visto ho fatto una bella partita anche De Catteler Ederson a me fa impazzire Ederson secondo me è il vero top player di questa squadra Ederson all'Atalanta è veramente la diga in mezzo al campo è il tutto fare Ederson è veramente imprescindibile secondo me per l'Atalanta e poi Lukman ha fatto quella quella quel gol lì poi nel secondo tempo su primo palo un'azione veramente spaventosa poi il Napoli il Napoli ripeto ancora l'ha vinta sporca il Napoli ha vinto la partita che doveva vincere sporca l'ha vinta con la deviazione del difensore sul gol di Di Lorenzo l'ha vinta sapendo sfruttare gli errori del Cagliari ma un Cagliari che è rimasto sempre in partita il 4 a 0 non rende giustizia non si meritava assolutamente un risultato così sonoro secondo me il Cagliari perché oh due pali due traverse quella da fuori due miracoli di Meret due occasioni nitidissime di piccoli oh il Cagliari le ha avute le palle gol non si meritava secondo me un 4 a 0 quindi è stato bravo Conte a vincere la sporca ce la da fargli complimenti però ecco se guardiamo le prime partite del Napoli le quattro a parte quella col Verona che ha preso gli schiaffi cioè con il Bologna vabbè era una squadra il Bologna ha fatto una partita a Materasso ok hai vinto meritando con il Parma non hai meritato cioè il Parma ti ha preso a schiaffi al Maradona hai vinto perché hanno messo del Prato in porta al posto di Cichizzola quindi hai messo un giocatore di movimento in porta l'ex 90 ha fatto gol grazie al portiere che non è un portiere il doppio giallo a Suzuki totalmente inventato quindi anche mezza ladrata secondo me di tutte le partite diciamo che meritava di vincere forse ce n'è una quella con col Bologna le altre ma anche col Cagliari ragazzi cioè secondo me se il Cagliari avesse pareggiato la partita subito a inizio secondo tempo non c'era nulla da dire e poi lì quando la squadra poi quando Conte prende gol raramente poi riesce a rimettere le partite l'abbiamo visto anche all'Inter Conte delle volte prendeva gol subito in avvio prendeva raramente rimontava quindi secondo me il Napoli di Conte va visto sul lungo andare cioè adesso mi sembra veramente molto molto precario giudicarlo però non ha le coppe quindi è un punto a favore e ha una grande rosa e il Napoli ragazzi ma il Napoli anche l'anno scorso aveva una rosa forte il Napoli ce l'ha sempre avuta secondo me è una buonissima squadra e ha grandi alternative Neres dalla panchina è un'arma che solo loro possono avere Neres è veramente un grande giocatore a me piace McTominay deve ancora entrare negli schemi Glimur anche i nuovi non li ha ancora a parte Buongiorno i nuovi acquisti non li ha fatti ancora accomodare nel gruppo quindi sicuramente il Napoli ha grandi margini di miglioramento però va vista nella va vista in continuità e niente amala sempre sempre forza l'intera domani ci vediamo al prossimo video ciao ragazzi